benvenuti nel mondo da nera sono lieta di accogliervi in questo momento speciale di approfondimento sono daniela il direttore creativo e il ceo del del brand e dedico a voi oggi questo momento speciale nel quale parleremo di una collezione magnifica effesto jewels per voi venite con me effesto jewels è una collezione che nasce dalla mia grande passione per la mitologia per il mondo del profumo è una grande ricerca nella quale è fusa la nostra arte profumiera e arte orafa per dar vita a delle creazioni fuori dall'ordinario che brillano di ricercatezza made in italy il mito di effesto è un mito che ha veramente rapito i miei sensi e le mie ricerche e nel momento in cui ho proprio scoperto questa figura mitologica lui era il figlio della dea era questa dea che con me compone tra virgolette profumi è un figlio che ha una vita avventurosa viene cacciato dall'olimpo e poi diventa in una caverna buia e con la lava il fuoco e gioielli e diamanti raccolti nelle rocce e festo da brutto e malforme diventa il dio della metallurgia e crea dei gioielli talmente belli che neanche gli dei avevano mai visto tanta bellezza e grazie a questa meraviglia e festo riesce a conquistare addirittura afrodite la più bella delle idee e quando si accorge che afrodite finisce nelle braccia di ares cosa fa costruisce una magnifica rete d'oro infine filigrana per avvolgere il corpo della sua amata e non farla scappare via ed è questa l'ispirazione che ho colto e che voglio raccontarvi perché la sensazione che alberga nel mio animo quando appunto sento il desiderio di avvolgere i miei profumi di proteggerli contro il decadimento del tempo un mito magnifico che grazie ai nostri valenti artigiani ha permesso la realizzazione di questa creazione unica a livello internazionale e sono lieta di presentarvi e che ha veramente degli elementi di unicità questo a questa griglia di metallo prezioso placata in oro 24 carati che avvolge i preziosi vetri e imprigiona i profumi che sono stati scelti per essere dedicati a questa collezione la finitura urban black nera per un mondo appunto contemporaneo che ama questo tipo di incontro anche dark noir qui vedete una elaborazione fine di puri swarovski black che girano e in maniera artigianale naturalmente a mano sono posizionati e qui la griglia con la versione dei brill è completamente ricoperta dai cristalli preziosi naturalmente le versioni sono sia in gold quindi in oro oppure in black i profumi dei quali vorrei parlarvi sono dei profumi che abbiamo selezionato da raccontarvi questa sera e raccontano anch'essi dei momenti molto speciali del mito vi presento kirche kirche è una fragranza che già dal nome ci dice molto perché ci racconta di una maga voluttuosa sensuale e potente la maga circe che faceva degli incantesimi importanti estremamente significativi in questo antro scuro e fumoso e tutto questo per raccontare un profumo dark molto seducente capace di sedurre il cuore degli uomini contemporanei kirche per un arredo olfattivo molto potente con dei iud molto speciali che cattureranno le vostre atmosfere. Con piacere vi accolgo adesso nel paradiso, nell'Eden, raccontato da Criso. Criso è l'elichris, il fiore dei fiori, il profumo degli Dei, uno speziato meraviglioso che con un magnifico mughetto e dei fiori bianchi vi accompagnerà in un'atmosfera di meraviglia e di paranzia. Vi porto con me ora nella laguna più bella del mondo. Arzanà, un profumo magnifico che da nera ha composto per raccontare Venezia, la biennale di Venezia. Questo è il profumo che abbiamo realizzato per vestire le atmosfere di questa location e raccontare appunto la laguna, la freschezza, la bellezza dell'arsenale e le punte di oriente che entravano in Venezia. Una esplosione di bellezza, di luce e di noti ozonate che conquisteranno i vostri sensi. Infinito è il magnifico profumo ispirato alla celebre lirica dei Leopardi, questo sguardo oltre la siepe che ci apre alla meraviglia di un incontro unico nel quale il mare e la terra si fondono in un divenire meraviglioso. Infinito è stato il profumo presente a Expo Milano ed è il profumo del made in Italy nel mondo, indimenticabile. Jewels, gioielli olfattivi nel mito dedicati a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.